Le ultime gossip news si incentrano su Soleil Sorghe e Cancelletto Luca Onestini. L'extronista di Uomini e Donne è concorrente all'interno del Cancelletto Grande Fratello VIP2, ma fino a pochi giorni fa dell'uomo non si era molto parlato. Il ragazzo è educato e riservato e dunque non è particolarmente spiccato tra tutti gli altri concorrenti che non hanno peli sulla lingua. Soleil, negli ultimi giorni è stata ospite negli studi televisivi di Barbara D'Urso, dove ha parlato di una bufera scatenata sui social.La Sorghe è stata vista in compagnia dell'extronista Marco Cartasegna e ciò ha scatenato delle liti social, sia con il fratello di Luca che con la sua ormai ex amica Federica Beninca.Il colpo di scena è arrivato poi quando l'Italo-America ha scoperto che Luca ha sentito Giulia Latini, rivale di Soleil all'interno di Ued. La ragazza ha dunque dichiarato di essere rimasta molto delusa, video, dal fatto che Luca le abbia nascosto questa cosa.Luca Onestini e le parole su Soleil Sorghe il bello di uomini e donne non è al corrente di tutta questa burasca scatenata dalla sua fidanzata e all'interno della casa del cancelletto grande fratello VIP2 chiede continuamente di ricevere notizia della sua ragazza.Luca è triste perché non comprende come mai Soleil Sorghe non gli abbia fatto ancora alcuna sorpresa. In confessionale il ragazzo ha rivelato che vorrebbe sapere come sta la sua amata e se sta andando tutto bene. In molti sono i fan del GF VIP2 che credono che durante la puntata di lunedì prossimo i due avranno modo di incontrarsi e dichiarire la situazione, video virgola le parole di Jeremias Rodriguez che sorprendono alcune giorni fa, Jeremias Rodriguez ha rivelato qualcosa che potrebbe cambiare il modo in cui i telespettatori vedono tutta la vicenda.Jeremias ha detto a Luca che una persona a cui lui vuole molto bene, ma di cui non vuole dire il nome, gli ha rivelato che Onestini sarebbe entrato nella casa con un piano già prestabilito. Dalle dichiarazioni di Onestini, si capirà poi che la persona in questione è l'ex agente del ragazzo. La parole potrebbero essere una semplice ripicca da parte di questo agente a Luca Onestini, ma se così non fosse, si spiegherebbero tutte le cose che stanno succedendo nell'ultima settimana.Naturalmente di tutto ciò non c'è conferma, ma potremmo scoprire la verità solo nel corso delle puntate del reality show. Se volete continuare a rimanere aggiornati su tutte le ultime news, cliccate sul tasto seguito.